Un cordiale buon pomeriggio ma soprattutto buona domenica, due spunti molto interessanti del pomeriggio il primo è ovvio c'è il premio Freccio d'Europa, ne parleremo, una classica di ottobre qui all'Ipponimo di Agnano ma soprattutto la giornata sponsorizzata dalla scuderia Oltremare cara d'Angelo Fuccarino, un grande allevatore proprietario che purtroppo non c'è più ma il nipote Angelo e anche la famiglia tutta continuata infatti ogni corsa è intitolata ai cavalli, alcuni cavalli della scuderia Oltremare questo è premio Circuschel, era veramente un cavallino d'oro va via la macchina sul doppio chilometro per questi due anni ha perso la partenza il quattro e così alla chiusura Bolero Gar ha le prese con Bomberdino che viene a chiedere strada poi Bold Per poi c'è Minopoli con Berenice che potrebbe accodarsi vuol correre al comando così gallucce con il suo Targato Gar quattordici e mezzo a partire lunga fila indiana un po' sfilacciata per i quattordici e mezzo dei duecento iniziali e ora il Targato Gar può anche leggermente graduare si va al quarto iniziale nell'ordine del 30 spaccato quindi ha ridotto notevolmente l'andatura e i cavalli che affrontano ora la seconda curva Bolero in poche parole Bomber, Bold Per, Berenice 46 e 3 e ovvio 16 e 3 di frazione e i cavalli sono al completamento della piegata presa la via del largo il numero 5 di Berenice si va al completamento del mezzo miglio iniziale mezzo miglio in uno tre e mezzo da parte del figlio di Beren e Nike Gar che ora chiaramente controlla the situation mentre si forma una seconda fila a largo capeggiata dalla Berenice primo chilometro sul mio in 18 e mezzo i cavalli che affrontano la penultima curva non ci sono variazioni sostanziali con Bolero Gar al comando mezzo miglio alla conclusione leggiamo la frazione che è interessante 15 e mezzo e Berenice sempre al salchi del Bolero che deve essere però un po' sostenuto perché è pigrone oppure è andato troppo forte no, viene anche stappato allunga, disinvolta e rimane leader 14 e 9 per il Bolero che per il momento a tango di musica a tempo di musica mantiene il comando ma Berenice lo fila andiamo al miglio nell'ordine del 2-3-3 e Berenice si affaccia col Nasino in fuori ma Bolero sembra ancora controllare ora viene via la figlia di Manifor Mission di Mario Minopoli ma Bolero ancora in vantaggio Bolero il Varen di turno Berenice ultimo attacco ma mi sa che non ci sono più tempi e non c'è più tempo bella affermazione di questo Bolero Targato Gar ancora un ennesimo prodotto Targato Gar che si fa luce terzo il numero 1 di Bold Pair 1-15-9 cost to cost niente male Romeo Gallucci in salchi sempre preciso non per niente ragioniere Carazza, Finetti, Panico alle spalle ma tutto sommato la sigla Gar si fa sempre onore e presenta sempre dei buoni puliti totalizzatore che borbotta 6-14 da seguire questa Berenice niente male ha girato anche un po' di fuori e ha tentato ma non c'era più tempo al terzo il numero 1 di Bold Pair con Vincenzo Luongo linea allo studio grazie a tutti 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 grazie a tutti